La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto, mi ero distratto solo un secondo, un attimo dopo l'ho già sepulto. La prima volta che sono morto, ho immaginato fosse uno scherzo e mi sentivo abbastanza tranquillo, ma dopo tre giorni non sono risorto. E' successo così al riprovviso lo scorso sabato mattina, il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento come da un plavano cadono le foglie, non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri e organizzare il mio funerale, poi prenotare la chiesa, avvisare i parenti, scrivere il necrologio. Qualcuno mi ha tolto il pigiama, infilato completo, quello del matrimonio. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto, mi ero distratto solo un secondo, l'attimo dopo ero già sepolto. La prima volta che sono morto, ho immaginato forse uno scherzo, e mi sentivo piuttosto tranquillo, ma dopo tre giorni non sono risorto. E così come? Mortamente. E' così che sono finito in quello che chiamano sonno eterno, non è vero che c'è il paradiso, il purgatorio e nemmeno l'inferno, sembra più una scuola serale, tipo un corso di aggiornamento, dove si impara ad amare la vita in ogni singolo momento. Il pomeriggio passeggio con Cepli, poi gioco a Briscola con Pertini, e stasera se la conti al cinema c'è il buonofilma di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano, mi ha chiesto, l'avete cambiato il mondo? La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto, l'ho realizzato dopo un secondo, che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure a stelle. Certo, un po' di sport in più, meno televisione, Maria De Filippi. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto? Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.